Musica Bella a tutti ragazzi da Virkob e bentornati su Gameplay Channel Rainbow Six Siege Operation Chimera Dopo il nuovo aggiornamento con i nuovi operatori Lion e Finca qualcosa del genere Sto facendo le varie 10 partite prima di essere rankato Ne ho fatte mi sembra 5-6 non mi ricordo Ne ho persa solo una o forse due E sta andando bene Il problema è che come sapete ragazzi io giocando pochissimo a Rainbow Six Ovviamente faccio quello che posso Non sono assolutamente un giocatore pro Non vedrete mai giocate pro da me se non per buccio di fondoschiene enorme Tendenzialmente mi ammazzano malissimo Però ragazzi io mi ci diverto Spero che vi divertiate anche voi a vedere i video Quindi se è così mi raccomando lasciate un bel like Ve lo ricordo Come moriremo quest'oggi? Ho solo da scegliere ragazzi Cioè qua non è il problema Di vincere il round Il problema è di decidere come voglio morire Ok allora occhio là Se sa mai Non credo però Una guardatina ce la do sempre Da che mi hanno ucciso malamente Colpettino così lo lanciamo Tanto per Ah vuoi aprire di là Ok Eh chiedo schiuma non l'avevo capito Chiedo schiuma L'avevo mica capito Luce spettura Dopo aver neutralizzato la minaccia Bella Dimenticatevi del contenitore No e dai ho sparato Porco boi ho sparato Ma headshotato malissimo Ok io ho premuto Ma è stato più veloce Il suo proiettile che è guarda lì Maledetto Porcaccia boia Quanto c'ho di ping Ah ok mocio 245 Che cacchio di pingo Lui effettivamente Se avete visto nel replay Poi vabbè che i replay Magari non sono neanche così precisi Però lui mi aveva già visto Completamente Io a lui non ho fatto in tempo A vedergli Mezza testa Che già Mi aveva headshotato Ecco Questo è il drone Del nuovo operatore Di lion Ok tu stai lì Allora io me ne vado di qua Oh madonna mia Come sparano Oh cioè Sono di qua Dove cacchio sto Non so dove mettermi Oh Porco boia La finestra Oh c'ho La finestra Vision La finestra è aperta Ah lo so Lo so Lo so che è aperta la finestra Il drone nemico In posizione per l'attenzione Occhio Sono stato individuato Ma perché io Sono stato individuato Ma che v'ho fatto io Fatemi capire Oh è bella Occhio Sono morti anche di là Quindi arriveranno anche di qua Il drone nemico È quasi in posizione Per la scansione Ma porca Ah paura Bella Bravo Non so dove possa essere Allora Oh Va bene va bene Ok va bene Io ho tenuto Quanto meno bloccato Quello lì nell'angoletto E quell'altro Mio l'ha potuto uccidere Ok Oh non ho beccato nessuno Mi sa manco No Nessuno Stanno facendo tutti i primi Eh vabbè A me va bene Per amor di Dio Li abbiamo individuati tutti Però Buono buono Va bene Va bene Quindi sì Il toucher qua serve Perché hanno anche i mute Quindi Toucher direi che va Benissimo Ok 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 Dove è Termite Dove sei Termite Maronne Siamo sponati In culo al mondo Qua Caceva Aiuto Ok Andiamo dal Terma Arrivo 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 zio Vai Buono Ok Buono Occhio Occhio Bella Può Di sotto anche il drone Di yokai Bene Oh 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 Ok He's behind the table Ah lo so che è lì dove c'è il tavolo Lo so Lo so Lo so Il problema è che Behind the table Lo so Lo so Madonna No Dai ma ha sparato E vabbè ma c'è un ping Però Occhio 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 Eh Era andato a prenderlo Mannaggia Mannaggia che legnate ragazzi Che cacchio di legnate Porcaccia miseria Oh sto giro non riesco a pigliarne manco uno eh Sto giro proprio Ok Allora qua abbiamo rinforzato Qua mi prendo questi Allora O piglio sto coso O no Ok Grazie Oh eh 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 Che cavolo è Ah Buchi là Ok Tu buchi là Ok Qua come si è messa Io magari Uno qua lo metto Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Ok Il nemico sta per perdere E che cavolo Mo mi hai rotto le palle Mi interessa se sono stato rilevato Occhio qua e qua e qua Occhio Occhio Se esco fuori mi legna Sono completamente bloccato ragazzi Oh bella Assisto uccisione quindi l'avevo ferito Ma non so Dove sono gli altri Ok Di qua non lo sento Che arriva di qua Secondo me arriva di qua Ah infatti Oh che arriva di qua Restano 15 secondi Mancano 10 secondi Vaffan bagno Vaffan bagno Eh che cavolo dai Ho almeno un turno dove mi sto rifacendo Porcaccia A parte che lì avevo Disseminato di 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 aculei Eh che cacchio Ho almeno qualche kill Fatemela fare Porca miseria Almeno un round in cui sono utile Se no veramente E' deprimente sto gioco Porcaccia boia Ok occhio Vai Andiamo Stata fa Oh Ah Deve pigliare infarti Termita è andato sotto Quindi andiamo sotto con lui Perché tanto serviamo a lui Quindi è inutile che vado di là Arrivo Occhio qua Occhio Occhio Eh devo coprire da sta finestra io però Occhio Bella Ok 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 Qua eh Bella lì Mamma mia Bella questa ragazzi Io sono rimasto lì tranquillo Ho detto Aspettia tanto Lo sentivo che era lì Oh Alleluia Che inizia a far qualcosa Ragazzi Alleluia Alleluia Speriamo che sia L'ultimo turno Cioè speriamo che sia Effettivamente il match point Di non tirarla in là Perché Insomma Difendete la stanza Dobbiamo proteggere Ok Allora Ditemi voi Qua sicuro Barricchiamo Ok Poi qua Direi di mettere subito questo Ok Dunque qua Volete che copriamo? Lo facciamo? Copriamo qua? Sono stati individuati 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 Facciamo 10 secondi Siamo a 5 secondi Vabbè Vabbè Inseguilo tu No dai 5 a 4 Eppure adesso che casca uno dei nostri No però dai Cioè così nell'ultimo round No ma che sfiga Che mo' becca a me Ci scommetto Eh Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Che beccava me Lo sapevo 4 a 4 Dai Buono Porco perché ? Qua 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 quà quà Qua ok vai no dove cacchio era ah da sotto maledetto eh non avevo visto che c'era il buco porca miseria non l'avevo proprio visto il buchetto lì maledetto termite maledetto andiamo a scadargli una mano ma oh vai bene e vedete però almeno gli diamo una mano con questi eccolo eccolo occhio che è di là e di là e di là lì 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 occhio che là occhio che là è là bella guarda che lì tropingo fa niente almeno sa dov'è occhio li ho riempito di cosi quindi ma perché sta cosa mancano dieci secondi dai lì eccolo guarda quanti ne ha presi guarda lì e lì lì bella mamma mia ok però sono morto ma avete visto intanto vabbè uno l'ho ucciso e poi ragazzi sono anche primo che cacchio di partita è iniziata malissimo ma vedete con legion mamma mia ragazzi good game mamma mia ragazzi e sono alla fine arrivato anche primo perché ho fatto tre assist con la botta finale avevo riempito di porcospini cioè lì sarebbe morto comunque eh che cavolo volevo ben dire però vedete oro argento vabbè questi qua ancora non sono rancati però tutti gli altri si siamo anche aumentati di livello ecco tre partite mi mancano questa l'abbiamo vinta mi è piaciuta questa questa è stata veramente bella è iniziata malissimo però devo dire che mi sono eh ripreso ripreso veramente tanto alla fine come detto lui è riuscito a uccidere il termite grazie a tutti i porcospini anche che aveva è rimasto sicuramente rincoglionito eh va bene ragazzi quindi mi raccomando se vi piace ehm insomma questa serie di rainbow six pur non essendo io come detto un pro eh mi raccomando lasciate un bel po' di like condividete commentate e ovviamente iscritti al canale se non siete iscritti detto questo io vi saluto noi ci ribecchiamo come sempre al prossimo gameplay ciao belli